ma l'ho rotto? velocità, solo velocità ciao a tutti gasati per il finale di stagione si nota? in maniche corde il disgelo è alle porte infatti c'è Sid che ci fa il bagnetto bene, let's go! oggi usciremo sui prati in fiore mamma mia lo possiamo dire? lo possiamo dire? questo è il posto in cui ci siamo conosciuti abbiamo condiviso uno strumento beh dai è nella norma uscire in maniche corde di prima mattina non c'è un cane che figata! non c'è nessuno una situazione un po' come Andalo quando mi sono schiantato con l'unico in pista si vamos la neve è ultra modificata velocità solo velocità le regole di prima hanno fatto relativamente 98 km orari e 92 ma erano proglie io con lo snowboard farò i 70 lui con lo snowboard farà i 65 no puntiamo agli 80 ci provo anch'io 3 2 1 come va veloce 86 e 77 wow not bad not bad dobbiamo dire non male no merda ho sentito la lamina agganciare e ho dovuto fare qualche mini curvetta non so neanche se ho preso gli 80 speriamo sentiamo cosa dice la mia girl tu sai quanto hai fatto? no qual è la tua aspettativa? nel migliore dei casi mille allora mille allora meno ma tu sei forse impazzita sai quanto hai fatto? eh no gli 86 e 77 wow che schifo non era successo no no perché ho dovuto mettere giù cioè andare di lamina qualche volta ho perso velocità perché sennò mi sarei schiantato è molto sciolta la mia e questo non è quello che vogliamo no c'è da riprovare in inverno tra l'altro è anche pericoloso perché se cadi puoi andare contro i transponder o come cazzo si chiamano perciò non è il massimo il guardrail della pista no no dico i cosi che ti prendono la velocità eh i guardrail della pista dobbiamo ancora fare la colazione perché pensavamo ci fosse tutto aperto e invece non ci sono neanche i bar aperti iniziamo a dare un occhio al park però questa mi sa che è la linea L beh folli quelli che prendono questi no Sì, sì, sì. provando board slide sulla struttura in fianco alla mia ragazza non so se la vedete ma adesso ci passerò sopra cazzo tornare su ogni volta non so più fiato let's go provare riprovare trovare e riprovare momento di riflessione personale tra parentesi perché se lo stesse chiedendo il mio schipass è qui letteralmente qua ma l'ho rotto guarda ma guarda è come se venisse fuori qualcosa va bene lo stesso i risultati di oggi siamo un po contro luce ma siamo procurati un bel grattone da pivello volevo fare lo zarro in maniche corte è molto caldo oggi stai filmando il cielo c'è molto molto caldo adesso andiamo a mangiare se ci arriviamo perché è acqua questa non si va avanti come al solito vi invito a iscrivervi al mio canale e vi lascio il codice promo di mai pass ok questo comprensorio non è neanche convenzionato però comunque per qualsiasi buona ragione ve lo metto valutate per la prossima stagione perché ormai anzi in realtà mai pass offre sconti e qualche agevolazione non è anche per l'estate gli impianti di risalita attivi d'estate restate sintonizzati perché anche se l'inverno è finito non sono finiti i video non so se farò una piccola pausa adesso però c'è qualche chicca quest'estate qualcosa riguardante il wakeboard sicuramente e vi dico solo che ha un'altra tavolina a caso da sfoggiare oddio ma c'è una strada qui porca puzza va bene ragazzi vediamo fra poco pappe qui è passato il topolino mega strudel da chi se magna seconda sessione di park adesso provo a fare la matita gialla e la batteria dura c'è il cediamo in park gari ma che ho ma che ho che ore sono what time is it what time is it raga siamo nella merda sono le quattro passate non sappiamo neanche se riusciamo a tornare alla macchina tra l'altro c'è quella cabino via che è assente la valle perciò merda vabbè comunque gasiamoci non ce la faremo mai non ce la faremo mai nessuno sulle piste non sarà nessuno neanche prima però ragazzi per i più geologi tra di voi sapete cos'è quel masso un masso erratico credo bella raga finisce qui oggi tavoline già asciugate tra l'altro guardate qui che bel danno disintegrata porca però fa parte del gioco ci vediamo nel prossimo video